Prima di incominciare questo post partita, ragazzi, ho una cosa da dirvi. Non sono in grado di dirvela a bocca, a voce, quindi farò parlare il traduttore che deve dirvi questo. Jak obzedwiwe Non so se avete capito, Scesni sicuramente sì, perché l'italiano fa un po' fatica, però in polacco dovrebbe averlo capito. E il traduttore ha detto che schifo, che schifo, dato che Scesni l'italiano poverino non lo comprende, dovessi mai vedere questo video, almeno in polacco ci può arrivare. Ragazzi che schifo, ragazzi che schifo, che schifo non può essere altro che il titolo di questo video, ma per diverse ragioni. Parto dalla prima, che schifo il fatto che arrivi a conferire una penalizzazione a 20 minuti dall'inizio della partita. Che schifo, che schifo, questo non è calcio, questo non è calcio, quindi che schifo, che schifo. Che schifo il fatto che ci sia stato questo risultato pesantissimo, nonostante una penalizzazione di 10 punti che ti avrebbe portato con 3 vittorie nelle ultime 3, matematicamente e aritmeticamente in Champions, a livello della Serie A. Quindi che schifo, che schifo perché non si può prendere un'imbarcata simile dopo una giornata simile. Che schifo perché sembra quasi che di aver giocato contro una squadra, l'Empoli, che voleva cercare di riprendersi sul campo quello che gli era stato tolto magari ingiustamente per il loro pensiero. Invece quella eri tu e non c'è stato niente. Che schifo perché io capisco che la penalizzazione arrivata a 20 minuti dall'inizio della partita ti possa creare un problema nella testa. Io questo lo capisco, però se prendi un gol e può capitare, e prendi il secondo può capitare di meno, ma può capitare, e se sei sotto per 2 a 0 al 21esimo del primo tempo, non esiste al mondo che non si provi a pareggiare almeno questa partita già nel primo tempo. Perché i 20 minuti successivi al 2 a 0 dell'Empoli sono il nulla cosmico. Che schifo perché anche oggi sbagliamo delle occasioni da gol. Sbagliamo delle occasioni da gol. Ne abbiamo avute due o tre veramente clamorose. Però che schifo perché poi io non voglio aspettarmi che la scusa ai microfoni possa essere sì, la penalizzazione avrebbe distrutto chiunque, il fatto che c'erano due ragazzi con poca esperienza, il fatto che tutte queste cose qui, dai ragazzi non prendiamoci in giro, tutte queste cose qui, tutte queste cose qui, i gol sbagliati, facili e i gol che abbiamo subito che potevamo non subire perché adesso io Allegri non ho ancora sentito, però la paura che possa dire delle robe del genere secondo me c'è, è concreta. L'Empoli stasera te ne ha fatti quattro, cioè che schifo rega, che schifo di giornata, è inutile girarci intorno, che schifo di giornata. Dai, facciamo prima dire così, io sono sincero, chi era su Twitch con me in live lo sa, di partita io stasera ho visto veramente poco, lo ammetto nella maniera più tranquilla possibile, ma come si può parare il calcio oggi? Come si può parare il calcio oggi? Se non c'è neanche la voglia di andarti a riprendere sta roba qui, se non ce l'hai sta voglia. Che schifo, che schifo, se non c'è sta voglia qui, che schifo, se non entri in campo incazzato perè, che schifo, se non vuoi dimostrare, che schifo, se l'allenatore non riesce a gestire i problemi, che schifo, se i giocatori non sono in grado di fare due passaggi, che schifo, cioè che schifo tutto, che schifo tutto, è uno schifo, è uno schifissimo. Io sono molto triste questa sera, sono molto triste perché abbiamo subito qualcosa di credo unico, unico nel genere calcistico italiano, forse mondiale, una penalizzazione che c'è stata dentro alla stagione, che poi è stata tolta dentro la stagione, che poi è stata ridata dentro la stagione a pochi minuti dal fischio di inizio. Io dico anche la verità, per me dieci punti per quelli che sono i capi d'accusa imputati alla Juventus sono tantissimi, perché sono tantissimi, per il plus valenza, lo sapete bene, io non mi aspettavo punti di penalizzazione, quindi per me sono tantissimi, ma nel momento in cui te ne avevano dati quindici e non ti hanno annullato, ti hanno soltanto rinviato il giudizio e ne vengono chiesti nove la prima volta e ne vengono chiesti undici la seconda volta, io vi dico la verità, ero convinto che potessero essere anche di più, che potesse nemmeno esserci la possibilità di dodici, undici, tredici, io mi immaginavo qualcosa di questo tipo qua, per darti veramente il colpo di grazia. Poi c'hai pure la possibilità di recuperare dei punti perché la Roma non vince la partita e non la sfrutti. Attenzione, io ripeto, io sono convinto che la penalizzazione abbia cambiato l'umore, il mood della squadra prima di scendere in campo, ma ci mancherebbe altro, è umano che sia così. Però ribadisco che dopo che hai preso due gol questa roba deve scappare via, cioè questa roba deve fuggire via, perché questo non è accettabile, semplicemente. La squadra in campo è piatta oggi come piatta prima, cioè ci sono state tante partite in cui comunque la squadra in campo faticava a fare, oggi credo che si sia raggiunto il limite estremo. La prima partita post penalizzazione era stata con l'Atalanta, era stato un tra tre, una bella partita secondo me, una bella risposta dei ragazzi e dell'allenatore di tutti, una partita aggressiva data a prendere alti gli avversari, pressare alti, poi ha preso tre gol evitabili, sì, e tre errori, ma non succede niente perché la prestazione c'era stata, la voglia c'era stata dall'allenatore e dalla squadra. Adesso che cosa abbiamo qua? Perché a me la domanda poi viene da farmela, cioè a un certo punto la domanda mi viene da fare, ve lo giuro, mi viene da farmela sta domanda. Ma è stato fatto apposta? La Juventus ha fatto una roba del genere apposta? È davvero il malumore nello spogliatoio il motivo? Io mi rifiuto di pensare che sia tutta penalizzazione, perché allora ragazzi se dobbiamo ragionare solo sulla penalizzazione, se perdiamo è sempre colpa della penalizzazione, a prescindere dalla competizione, se vinciamo è perché nel momento complicato la squadra si è compattata. Però queste sono scorciatoie secondo me a livello comunicativo, sono cose che contengano dei principi di verità e io non mi permetterai mai di dire che non sono così. Però poi se ci limitiamo solo a queste due risposte, se si vince per quello, se si perde per quello, ragazzi cadiamo nel banale, nello scontato e non parliamo di sport. Già che di sport non ne stiamo parlando perché, ripeto, quello a cui abbiamo assistito in questi mesi secondo me è stato deleterio, davvero deleterio. Però a un certo punto allora se non ti va bene ti arrendi, cioè si alza bandiera bianca. Non vado nemmeno a giocarmela con l'Empoli, non vado nemmeno a giocarmela con il Milan, non vado nemmeno a giocarmela con l'Udinese, cerco di far saltare il campionato. Cioè, intendiamoci, a un certo punto qualcosa poi dovremmo decidere di fare, no? E questa non è la strada. Quindi a me viene da chiedermelo, ma questa è stata una risposta per la penalizzazione e secondo me inizialmente ci può stare, ma tutta la partita no? o perché i giocatori vanno in campo sperando di dare un messaggio alla società lato direzione tecnica? Perché poi a un certo punto queste domande te le devi fare. Cioè, la partita di stasera, io sono convinto che l'Unitus avrebbe perso contro qualsiasi squadra in Italia, ma non dica solo professionistica, serie A, serie B, serie C, dilettanti, Lega Pro, che è serie C, tutti, contro una squadra amatoriale, avrebbe perso contro l'Unitus della YouTuber League stasera, avrebbe perso contro l'Unitus della YouTuber League, esagero, vado proprio nell'esagerato peso. E ripeto, io capisco la penalizzazione, perché sarà sicuramente un punto la penalizzazione, è un punto di discussione, ma è uno, è uno. Tutto il resto, tutto il resto non c'è, tutto il resto non lo analizziamo, tutto il resto non lo prendiamo in considerazione. Io credo che sia il post partita in cui ho parlato meno di calcio in assoluto, questo, di cosa abbiamo parlato? Niente. Abbiamo parlato niente di calcio. E mi fa schifo, torniamo lì, non parlare di calcio, non poter parlare di calcio, mi fa schifo, è una situazione che mi fa schifo. Ma è anche la situazione nella quale, quindi avevo veramente poche parole probabilmente stasera a dire, non credo di aver fatto mai un post partita così breve, non ho altri concetti da esprimere, carico il video, mi metto qui. Ascolto che cosa ha da dire l'allenatore, ripeto, secondo me ci saranno quei due o tre punti nella fase di comunicazione, perché ormai ho capito come va l'andazzo, però stasera credo che si sia raggiunto uno dei punti più bassi in assoluto della storia della Juventus. Io so che qualcuno magari si aspettava che arrivasse qui incazzato, arrabbiato, io ero incazzato e deluso l'altra sera, in Europa League, perché ci tenevo, io volevo portarmi a casa quella coppa lì, tanto per una roba mia personale che non ho mai visto lui vincere in Europa, e ho 31 anni a luglio. Seconda battuta perché mi sarebbe piaciuto metterlo lì, a quelli che non ci vogliono in Europa, e quelli che non ci vogliono in Europa comunque oggi ti hanno dato la possibilità di arrivarci comunque in Europa e ci siamo fatti il danno da soli, ci siamo fatti il danno da soli. Per quello che io mi rifiuto di pensare che sia un discorso legato a una squadra che entra in campo per giocare contro, mi rifiuto di pensarlo, c'è anche la possibilità, c'era davvero di scendere in campo e mangiarsi l'erba e il pallone e dimostrare che quei dieci punti che ti hanno tolto erano tuoi e avevi conquistati. Non posso neanche fare dei parallelismi con delle altre squadre, una roba del genere non si è mai vista. Questo non è futbol.